Una notizia di sport, Enzio Capuano, ex allenatore del Potenza Calcio, lancia la sua offerta per rilevare l'intero pacchetto azionario della società Rosso Blu. 100.000 euro la cifra messa a disposizione degli attuali presidenti Vangone e Bertolomo attraverso la GFM Consulting LTD, una società con la sede legale a Malta e amministrativa nel capoluogo lucano. La risposta dei vertici del Potenza Calcio dovrebbe arrivare entro 48 ore.